Attimi di paura oggi pomeriggio, poco dopo le 14, per un 88enne del Sondriese ribaltatosi con la sua carrozzina elettrica in strada. L'anziano stava attraversando via Toti quando, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale di Sondrio, con il veicolo sarebbe maldestramente salito sul cordolo dell'isola spartitraffico, cadendo in prossimità del cantiere per la realizzazione del sottopasso di Vianani. In un primo momento le condizioni del pensionato sono apparse gravi ai passanti che hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto il personale sanitario che ha trasportato l'88enne all'ospedale del capoluogo per accertamenti. L'uomo non correrebbe pericolo di vita.